Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi come fare un i-cord o cordoncino a tubolare all'uncinetto. Io in questo caso, intanto che vi mostro come farlo, vi farò vedere anche come usarlo magari per fare un braccialetto. Il braccialetto che farò vedere nel video è questo, ho messo in fondo, ho agganciato un bottoncino a forma di rosellina e che si può portare o così o girato, visto che comunque la rosellina è molto carina e quindi volendo si può mettere anche sopra. Questo qui non ci ho attaccato nulla perché comunque come braccialetto è già molto luminoso perché ha tutto questo glitter argento dentro e in più diciamo è anche abbellito da questa rosellina che io non riesco a inquadrarvi, da questa rosellina insomma, facciamo così, che comunque lo rende ancora più particolare. Allora, spero che anche questa idea vi piaccia, questa lavorazione comunque può servire per molte cose. Io in questo caso, già che lo stavo facendo, ho voluto fare questo piccolo braccialetto anche perché magari a qualcuno piace e qualcuno lo rifarà. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, se questa idea vi è piaciuta. Cliccate mi piace se il video vi è piaciuto e vi lascio al tutorial. Ciao ragazze! Ok ragazze, allora, per fare il cordoncino tubolare all'uncinetto possiamo utilizzare un qualsiasi tipo di filato, che sia grande, che sia più stretto, che sia di cotone, che sia di lana, qualsiasi cosa, anche la fettuccia possiamo usare, qualsiasi cosa noi vogliamo usare lo possiamo usare. Fatto all'uncinetto però c'è la particolarità che, appunto, possiamo usare un qualsiasi tipo di filato, mentre se dovessimo usare il tricotin, che è un aggeggio apposta per poter fare l'i-cordo o cordoncino tubolare, dovreste usare per forza un tipo di filato e che abbia poi, oltretutto, un determinato spessore. Invece, fatto con l'uncinetto, il bello di questo è proprio che possiamo usare qualsiasi tipo di filato, che ci possa occorrere. Questi cordoncini si possono usare per qualsiasi cosa. Normalmente li troviamo, per dire che, ne so, avete una tuta che si allaccia in vita, che per stringerla ci sono questi cordoncini fatti a tubolare. O nelle felpe, quando stringi il cappuccio, ci sono questi cordoncini fatti a tubolare. Però noi, volendo, possiamo utilizzarli sia per fare delle collane, sia per fare dei braccialetti, attaccandoci magari dei gancettini, delle cose un po' carine e si possono usare anche magari per fare delle stringhe. Io, per dire, ogni tanto mi è capitato di fare delle scarpettine all'uncinetto da bambino e siccome erano tipo le all star, automaticamente mi servivano poi i laccetti e si possono fare o così a tubolare o in caso solo catenelle in quel caso, ma in questo col tubolare è molto più carino. Allora, iniziamo con il fare la nostra solita asolina e lavorando morbido, quindi non stretto, facciamo tre catenelle, quindi una, due e tre. Aspettate che magari zoom un po' così vedete meglio quello che faccio. Ok, adesso entro con il mio uncinetto, non nella prima catenella dove ho comunque il filo, entro nella seconda catenella che ho fatto, prendo il filo ed esco e lo tengo sull'uncinetto. Adesso vado nella terza catenella, entro, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. Adesso ho tre punti sull'uncinetto. Cosa faccio? Esco da due punti tenendoli fermi in modo che non cadano, quindi li tengo col dito, ok? Prendo poi, senza farli cadere, mi raccomando, prendo, ecco così, prendo il filo sempre morbido e lo faccio passare dentro nel primo punto. Adesso vado a raccogliere il secondo punto che ho tenuto da parte, prendo il filo ed esco anche da questo qui, avendo sempre, tenendo sempre il punto sul ferro. Adesso vado a prendere il terzo punto che avevo tenuto da parte, prendo il filo ed esco da quello, ok? Adesso cosa faccio? Di nuovo esco dai due punti iniziali e vado a prendere, sempre in modo morbido, vado a prendere il filo ed esco dal primo punto. Adesso vado a prendere il secondo punto che ho lasciato per terra, lo riprendo e rinfilo su il filo ed esco dal punto, sempre tenendolo sull'uncinetto. Entro nel terzo punto, prendo il filo ed esco. Tenendo, io devo sempre praticamente avere tre punti sull'uncinetto, mai meno. A parte quando noi, come in questo caso, usciamo dai due punti iniziali, prendiamo il filo e lo facciamo uscire dal primo punto, andiamo nel secondo punto, andiamo a riprendere il filo e usciamo dal secondo punto, tenendolo sempre sul ferro, andiamo a prendere il terzo punto che abbiamo lasciato cadere e usciamo sempre dal punto, sempre tenendolo sull'uncinetto. Questo è il procedimento, sempre. Facciamone ancora un po'. Usciamo dai primi due, andiamo a prendere il nostro filo, senza tirare troppo, se no cade il punto, e usciamo. Andiamo a prendere il secondo, prendiamo il filo e usciamo anche dal secondo. Andiamo a prendere il terzo punto, prendiamo il filo, oh, l'ho preso male, scusate. Prendiamo il filo e usciamo dal primo punto e abbiamo sempre tre punti sull'uncinetto. Adesso usciamo da due punti e li teniamo fermi. andiamo a prendere, allunghiamo piuttosto tanto l'uncinetto, in modo che non andiamo a tirare il filo, ma siamo noi che con l'uncinetto, vedete, avanti e indietro, andiamo a prenderlo, il filo, lo avviciniamo e usciamo. Andiamo a prendere il secondo punto, prendiamo il filo e usciamo dal punto, e andiamo a prendere il terzo punto senza farlo cadere e prendiamo il filo e usciamo dal terzo punto, avendo sempre tre punti sull'uncinetto. inizialmente vediamo che dietro il nostro lavoro è un po' aperto, ma nel momento in cui noi iniziamo a lavorarlo, questo si tira e vedete che quando lavoriamo è aperto il lavoro, giusto? questo qui è largo, però man mano che saliamo, questo si chiude in automatico da solo, vedete? E si forma così questo cordoncino bello pomposo. Andiamo avanti, perché io voglio farvene vedere, vado avanti per un po', perché voglio farvi vedere magari per dire la misura di un braccialetto, noi andiamo avanti e quando vediamo che è la misura del braccialetto, ci blocchiamo. Il procedimento, ripeto, è sempre questo, se si tirano via due punti dall'uncinetto, si va a prendere il filo senza tirarlo troppo e si fa uscire dal primo punto, andiamo a prendere il secondo punto, agganciamo il filo e usciamo dal secondo punto, sempre tenendolo sull'uncinetto, andiamo a prendere il terzo punto, agganciamo il filo e usciamo dal terzo punto e andiamo avanti così. Ci rivediamo tra un po'. Ok, fatto il nostro cordoncino, adesso per chiuderlo cosa dobbiamo fare? Non facciamo altro che prendere il filo e uscire da tutti e tre i punti insieme, dopodiché facciamo una catenella per chiuderlo. Perfetto, adesso però, siccome io voglio trasformarlo in un braccialetto, cosa faccio? Invece di fare solo una catenella, ne faccio un due, tre, e vediamo se mi può bastare, no, farei una quarta e poi vado a chiuderla a cerchio nella prima catenella. quindi faccio una maglia bassissima. Questo perché vediamo se bastano quattro catenelle, no, ne facciamo ancora una perché mi sembra un po' troppo piccolo il buchettino che si è formato, quindi facciamo cinque catenelle e poi chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella in questa maniera. Perfetto, adesso sì che ci siamo in modo che si sia formato un buchettino dentro. Adesso cosa facciamo? Io ho già il filo tagliato, faccio uscire completamente il filo per bloccarlo. Perfetto. E adesso cosa faccio? Vado prima di tutto a nascondere i due fili. Dopodiché vi faccio vedere io attaccherò anche un bottoncino vediamo quale potrei tra questi quale potrei attaccare. Magari anche questo qua è carino. Vorrebbe passare io penso. Sì? Quindi da questa parte io andrò a attaccare questo bottoncino a forma di rosellina non si vede tanto bene ecco a forma di rosellina però prima vado a nascondere tutti i fili dopo vi faccio vedere come è venuto il il braccialetto ecco qua ecco qua il mio braccialetto terminato di qua ho messo appunto il mio il mio bottoncino per chiuderlo in modo che col tempo non si lascia andare perché con io ho notato che quando si usano le le chiusure normali dove magari si deve fare il nodino o altro a lungo andare la lana si lascia andare invece in questo modo a parte che il tubolare rimane molto elastico come materiale come lavorazione però con il bottoncino siamo sicuri che non andiamo poi col tempo a rovinarlo io adesso l'ho fatto così poi volendo siccome il bottoncino a forma di rosa è molto carino volendo si può portare anche col bottoncino davanti che rimane comunque molto carino lo stesso o altrimenti riportato così e volendo ci si possono attaccare anche su magari si possono cucire delle perline o altro ma in questo caso io la lascerò così perché già è molto luminoso come braccialetto visto che ha dentro tutto questo glitter argentato e in più con la rosellina l'ho proprio abbellito già di suo quindi si possono mettere delle perline oppure attaccare dei ciondolini sia da una parte che dall'altra e farlo tutto in questo modo insomma ci si può sbizzarrire diciamo con questo tipo di lavorazione e poi ripeto può servire non solo come braccialetto potete fare anche degli anellini potete farli sottili e farli più oppure più grandi potete fare delle collane di vario genere sempre con questa lavorazione spero che anche questo video vi sia stato utile che vi sia piaciuto commentate magari nel box informazioni e mi raccomando cliccate mi piace se il video vi è piaciuto ciao ragazze e al prossimo tutorial